mare con l'amore io voglio voglio giocare la famosa tutta? no tutta no buonasera buon giovedì ciao ciao a tutti allora aspettate che io ci sto qua dietro mare sapore di mare ma oggi piove esatto infatti pioggia scende la pioggia ciao Blanca ciao Blanca auguri ancora per ieri ieri era il compleanno di Blanca aspetta che levo l'audio da qua ok come state caruccia si attenta che se te muovi malamente resti infilzata infilzata sai le risate nella staccionata sai le risate si molto splatter allora qualcuno c'è grazie prego allora allora come avete potuto vedere dalla fotografia perché fino a ieri avevamo solo la foto si da oggi abbiamo qua lui oggi ah intanto benvenuti al giovedì sagomiamo mi dispiace vi beccate a me un'altra volta oggi ciao Antonella ciao Antonella Antonella la collega si ok se no faccio come l'altra diretta che ero sicura fosse un'altra Antonella sono le 17 e 31 quindi precise e allora c'è da fare un piccolo preambolo su questo piccolo e poi spegno ecco l'altra Antonella ciao ecco l'altra ok ciao e poi spegnilo perché se no dura allora quel vasetto con le lucine sembra sembra acceso il vasetto con le lucce o le tinte eh sì eh sì penso che forse volesse simulare quello però non lo so è una mia interpretazione va bene una licenza poetica una licenza poetica allora piccolo preambolo noi l'altro giorno sfogliando il catalogo di Salò gomiamo per ora levalo scusa Stefano per ora scansalo ecco ma era meglio che vedevano loro che vedevano loro eh ma te vedevano loro stesso perché quello è aperto ok allora sfogliando il catalogo di Salò gommiamo abbiamo ritrovato questo progetto che noi ora vi presentiamo così ma poi vi spiego e ispirato al mare che io trovo meraviglioso allora abbiamo contattato contattato Marzia e vi ho detto ma questo è ancora in produzione e lei e lei ci ha detto guardate ancora qualcosa c'è ma probabilmente questo poi uscirà definitivamente da catalogo perché è stra artigianale ci vuole un sacco di tempo per farlo per fare il grezzo per fare il grezzo parliamo del grezzo ovviamente ora della lavorazione poi ne parliamo e quindi ha detto allora facciamo una cosa proponiamo gli ultimi pezzi che hai che ti sono rimasti e poi lo mandiamo in pensione almeno quel momento vediamo vediamo io lo trovo noi ce ne siamo innamorate innamorate nonostante non siamo delle amanti del tema mare ma questo io lo trovo io sì parlavo plurale ma io stavo ma questo io lo trovo splendido allora cos'è prima di tutto vi faccio vedere vicino al campione il grezzo ah e quindi dicevo disponibili ce ne sono solo sette pezzi sono gli ultimi sette che ci sono per cui ora vi spiego un po' tutto ecco questo è il grezzo vedete parliamo di lui poi vediamo la lavorazione è una mensola da appoggio cioè da appoggio sicuro senza punto interrogativo era se definirla mensola si è una mensola sciabissima secondo me e l'avete già vista in foto ma vi voglio rifar vedere la foto del campione diciamo completo ambientato allora lo devi avvicinare ste no non 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 così fermo ok ecco e vedete nell'ambientazione del campione è stato usato come porta piante porta piante grasse eh sì quelle che sono lì sono piante vere non sono le sagome non sono le sagome può diventare che ne so un porta un porta un porta potete portare quello che volete è meraviglioso allora nasce in realtà con questa ambientazione marina il barattolo con dentro la rete i pesci il nastro con i pesci però però chi può dirlo l'ambientate ciao Anna Maria ciao Anna Maria l'ambientate come volete io ad esempio vabbè ma perché è una fissazione non c'è niente da fare là su quella base chi ha preso anche gli articoli del mare il faro sì la cabina esatto io ad esempio me la immaginerei natalizia ah io pure con le cose che ne so la freccia nottunno che indica a babbo natale dove lasciare i regali e qua che ne so le cose per babbo natale ma no la neve invece degli scogli con la sabba ma insomma anche questa un po' come quella targhetta dell'altra volta interpretabile quella targhetta quella delle piantine grasse infatti è interpretabile in mille modi l'idea è stato il mare e siccome quest'anno se cosa che negli altri anni non andava tantissimo nelle varie tecniche quindi dallo scrap ai timbri al decoupage il mare poco quest'anno invece va e invece quest'anno è tornato è tornato in voga anche i pannelli di adelaide penso che ci sia qualche cosa con il mare e si e c'è il libro tattile anche il fondo marino per cui si sta tornando di moda esatto allora e poi è bellissimo perché ha questo gancio in acciaio smaltato che in questo caso è stato usato come questo è un barattolino semplicissimo legato con lo spago vediamo ecco legato con lo spago e messi dentro le lucine e c'è il tool e la rete c'è un tool c'è un tool che simula la rete che no della rete ora ne parliamo perché sul campione in effetti qui c'è un pezzo di rete si nel campione e è disponibile anche quella però guarda il tool bianco con le luci così sembra la rete la parte di nylon della rete infatti per cui con questo gancio ci agganciamo quello che vogliamo se volete far diventare un portachiavi e ci mettete i kia non è un problema allora parliamo dei pezzi ok abbiamo pensato di non proporvi tutto il kit perché ecco magari vi piace il grezzo ma lo volete ambientare in un altro modo quindi ora vediamo esatto vediamo i prezzi dei pezzi singoli però vi ricordo che le basi al di là di quello che faremo vedere dopo tutte le altre cose sono solamente queste sette non sono poi riproducibili almeno non a breve ok allora la base e vi dico i prezzi già tutti scontati tutti quanti scontati la base scontata salve la base scontata viene 18 ok e ce ne sono 7 disponibili e basta poi vi faccio vedere qui ci sono dei pescetti vedete i pescetti stilizzati e questi sono acquistabili assolutamente sciolti su questo progetto ce ne sono 6 due piccoli due medi e due grandi vi faccio vedere vi faccio vedere come sono e vi do i costi allora questo è il pesciolino piccolo che esiste o pieno o vuoto vedete non è il piccolo perdonatemi questo è il medio ok e i pesciolini medi vengono 0,55 l'uno 55 centesimi pieno o vuoto è uguale lo scegliete voi i minuscoli piccini 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 che sono qua vedete sempre o pieno o vuoto vengono 0,35 0,35 centesimi i grandi sempre o pieno o vuoto vengono 0,85 ok poi in questo progetto c'è questo nastro fitissimo aspettate eh che non vorrei smontarlo si vede così si si ok con i pesciolotti anche lui e questo è acquistabile al metro e il nastro viene 0,90 centesimi al metro se andate a vedere eh anche volendolo fare così è un progetto molto cioè tutto sommato è assolutamente economico per quello che è ok perché al di là del costo della base che però ripeto parliamo lavorata tutta a mano tutta a mano e lo garantisce il fatto che se voi vedete il legno non è perfetto no c'è una base falla vedere è bellissima dove era stato preso l'appunto per realizzarla proprio per realizzarla quindi c'è lo schema con le misure vedete va sotto questa è la dimostrazione che della lavorazione è assolutamente artigianale e a mano anche per questo eh hanno dovuto interrompere un po' la produzione perché comunque per realizzare una di queste ce ne vuole però ecco al di là della base poi il progetto è stato realizzato veramente con dei costi bassissimi ok vi ricordo che le lucette sono disponibili e vengono 3 euro e 80 ok la catenella a 10 lucina è la stessa che abbiamo usato sui cactus ok e questo se volete se non avete domande vi parlo di come nello specifico è stato lavorato questo se avete domande scrivete io poi quando hai finito la spiegazione voglio dire due cose sui pesci e sul nastro per i pesci per dare un'altra idea ok e allora nello specifico questa base è stata lavorata con una tecnica molto shabby ok è stato dato del colore ma a spatola a spatola e poi sopra un impregnante guardate vi faccio vedere dietro il colore dell'impregnante è un marrone chiaro un marrone chiaro questo sui bordi perché si esatto perché ha filtrato ha filtrato dietro e eccola marzia eccola ciao ben arrivata eccola eh quindi prendetevela con lei se ce ne sono solamente 7 perché abbiamo detto marzia che dubitiamo che si potranno in seguito replicare queste qua perché ho appena finito di spiegare che è tutta una lavorazione artigianale per cui sarà sarà difficile ti abbiamo chiesto in ginocchio di averne qualche pezzo perché è diventata merce rara e dicevo il colore acrilico ma a spatola proprio messo male ok volutamente e una volta asciutto è stato dato un impregnante quello che vi ho fatto vedere un impregnante per il legno qualsiasi e quando l'impregnante ancora non ha tirato del tutto con uno straccio è stato tolto ok alla fine sono state date delle pennellate a secco con la tecnica del dry brush di di questo azzurro celeste ok questa è la lavorazione che ha fatto marzia io ad esempio lo vedo anche con uno sciabbi assolutamente classico quindi un colore di fondo la cera per chi lavora cera oppure un secondo colore e poi scartavetrato rovinato oppure semplicemente sporcato con un colore solo sì comunque l'effetto usurato sì perché se soprattutto lo interpretate mare mare salsetine salsetine questo potrebbe essere magari un pescatore che c'è il porticciolo esatto con la lanterna e quindi è tutto esposto all'intemperio alla salsetine all'usura vi piace questa altra interpretazione mia ecco e poi sopra ci poggiate quello che vuole volete ultima cosa allora la rete ora vi spiego è che questa mattina ancora non l'avevamo invece da oggi pomeriggio è diventata disponibile ma non ce l'ho fisicamente da farvi vedere per chi lo sa fare anche per come no come no assolutamente e per cui fisicamente non ve la posso vedere non ve la posso far vedere però qui nel campione è avvicinato aspetta lo prendo un attimo ecco la vedete vedete che c'è c'è una rete che è stata poggiata è stata poggiata qua ok così tipo ambientazione questa rete da oggi pomeriggio è di nuovo disponibile prendo il telefono non perché sono scema adesso fa un'altra cosa ma perché ho quelle misure della rete che mi ha mandato Marzia ho anche aspetta guarda un po' se si vede la foto mi ha mandato anche la foto si si ok la rete sono tagli diciamo 50 per 50 quindi grande che potete fare la potete anche far scendere da qua ok 50 per 50 e viene una l'avevo appena pensato ciao Marzia cosa il craclè forse ah può darsi si si la rete 50 un taglio 50 per 50 per cui insomma un bel taglio viene aspettate che ritrovo il prezzo 1 euro e 60 niente niente ve l'ho detto al di là della base che comunque vi assicuro la rete è bianca quella del campione marrone vuol dire che è stata colorata no quella del campione me l'ha spiegato Marzia quella del campione è una rete vera se l'è tessuta lei mamma mia se siete in grado per carità di dio lo potete fare per facilitarvi se volete abbiamo preso la rete quella della fotografia quella e viene 1 euro e oddio l'ho appena detto e 60 ok allora 50 per 50 e se non ci sono altre domande tu che cosa volevi dire allora io praticamente se mi dai un attimo i pesci mando una foto a Stefi la può far vedere cosa l'ho fatta vedere la rete l'ho fatta vedere la rete non si è vista mando scusate no l'abbiamo fatta vedere Marzia alla rete non so se parli della rete ah no no ma forse sta dicendo ora mando una foto a Stefi eh aspetta perché Stefi oggi per evitare telefonate durante le dirette ha messo modalità aereo e quindi aspetta te la sblocco un attimo e poi la riblocchiamo ok eccola è già arrivata perfetto aspettate vediamo uh mi ha mandato un'altra ambientazione fantastico aspettate che la apro per per farvela vedere bene eccola qua meravigliosa mamma mia questa è un po' più Anna Bosco ciao bellissima composizione sono arrivata ora è bella vero e adesso faccio un riassunto adesso faccio un riassunto guardate questa è bellissima non so Marzia per chi l'hai lavorata per chi è stato lavorato mi dà molto di taverna guardate ah che bella tra l'altro questa è solo impregnata bellissima western molto far west si mi sa proprio di taverna si molto bella con l'etichetta appesa welcome io il benvenuti ve lo volevo proporre in un altro modo ma anche così è bellissima e non ha niente questa è lavorata solo Marzia correggimi se sbaglio ma da quello che vedo vi è stato dato solo un impregnante perché proprio non ha ad occhio si non ha nulla nulla di più quindi di una semplicità cioè questo è un oggetto che a noi no no questa è presa dal web non l'hai fatto te ecco pensa un po' però pensa un po' è stile western no no far west pensavo l'avesse una sua lavorazione questa è un'altra interpretazione è proprio lei eh ragazzi no è bellissima è bellissima e Marzia prima dicevamo anche con l'ambientazione natalizia e pensa pensa che bello la freccia che indica il polo nord impregnante dato non omogeneo esatto infatti era intuibile i pesci stavamo allora no stavo volevo dare un'altra idea su come usare i pesci e il nastro dei pesci allora qui devo fare riferimento al mio passato di guida turistica di luoghi sacri e eh sì è quello allora praticamente anche chi fa catechismo lo sa però comunque io risalgo a quello e soprattutto il pesce eh fatto con la silhouette tipo questi piccolini o questi aperti questi qua è l'antico simbolo del cristianesimo dell'eucarestia i pesci sì beh uno dei discepoli era pescatore eh sì ma è più più di uno più di uno erano quasi tutti pescatori poi c'era il santomaso che era l'esattore delle tasse sì con la neve sotto dice Marzia in effetti l'avevamo già proposta come cosa allora questi simboli qui in realtà possono essere utilizzati per allestire una comunione esatto perché vengono utilizzati proprio nel come simbolo di prima comunione quindi il pesce così a silhouette quello pieno no ma questo a silhouette così sintetico è proprio lui quindi muove ho detta la mia cultura ecclesiastica l'ho sfoggiata allora qui Marzia correggimi se sbaglio perché non vorrei aver dato un'informazione sbagliata all'inizio allora io ho premesso che queste sono le ultime sette basi che abbiamo anche per questo le stiamo dando scontate a 18 euro e tutte lavorate a mano eccetera per quanto riguarda queste altre cose che ho presentato queste invece sono replicabili giusto correggimi se ho detto qualche cosa che non va e mentre mi rispondi io ridò anche per Anna Bosco che si è collegata adesso i prezzi di tutti quanti gli elementi allora Anna l'abbiamo detto all'inizio questo progetto è meraviglioso però potrebbe essere interpretato anche in un altro modo ripeto io ci ho visto il Natale avete visto la fotografia tipo taverna eccetera quindi abbiamo deciso di non fare invece assolutamente le basi solo su ordinazione e immagino che forse non sarà neanche più questo prezzo poi su ordinazione dicevo quindi abbiamo deciso di non fare un vero e proprio kit per il progetto ma di darvi la possibilità di prendere anche gli elementi sciolti premettendo che queste qua sono le ultime sette che ci sono quindi ora ridico i prezzi di tutti quanti gli elementi se c'è qualcuno a cui interessa qualcosa scrivetelo allora la base brezza eccola qua è grande ce lo capite che è grande perché vedete me misurala un po' no no ce l'ho qua ah ok ce l'ho qua si è 30 per 40 d'altezza ok è grande poi lo state vedendo in proporzione a me la base gli ultimi sette pezzi viene scontata 18 euro ok la base che è il grezzo eccolo qua perché l'ho fatto con il gancio e tutto quanto ok poi mi sento molto come si chiama il leone de metro golden maier esatto fai pure roar così allora i pesci che vedete qua qua ne sono stati usati due grandi due medi e due piccoli un vuoto e un pieno per ognuno allora vi faccio vedere questa si come ha detto il prezzo è esatto dopo costerà 22 esattamente e passamelo passamelo così continua tu il riassunto e i pesci grandi questi qui o vuoto o pieno a scelta è uguale vengono 0,85 centesimi ovviamente l'uno i medi sempre o pieno o vuoto a scelta vostra viene 55 centesimi e i piccini sempre a scelta o pieno o vuoto vengono 0,35 ok poi in questo progetto c'è anche questo nastro meraviglioso ed è acquistabile a metraggio e viene 0,90 al metro in più ho fatto vedere le fotografie prima e abbiamo preso dei tagli di rete proprio se volete simulare la rete dei pescatori e sono tagli 50 per 50 e vengono 1,60 a taglio qui in questo progetto ci sono state messe anche le lucine che sono disponibili e vengono 3,80 basta praticamente basta io poi mi sono messa qua delle scrittine per farvi vedere come sarebbe carina ad esempio mettendoci sopra la scritta benvenuti aspetta perché non vedo sì non si vede ah non si vede ok ecco così ad esempio potrebbe essere molto carina me le sono messe qua o casa dolce casa eccetera me le sono messe qua solamente per darvi un'idea in più ok e questo è quanto ci tenevamo a dirvi che appunto sono rimasti disponibili gli ultimi sette pezzi e basta mentre questi appunto si possono avere sempre ma si possono avere sempre anche il nastro il nastro non so sempre questo ora magari ci risponde Marzia però i pesci si i pesci si perché sono proprio di produzione questo qui ancora un po' ce n'è ma non so se è riordinabile non ne ho idea e niente volete qualche altra spiegazione se dovete acquistare qualcosa di questo ricordatevi che la mia spiegazione aumenta il prezzo perché ora sapete che questi li potete usare anche per la comunione quindi non vengono più 0,85 ma vengono un euro eh sì anzi mi sono ricordata la definizione greca del simbolo perché poi la derivazione ittico viene da là ma in greco quello è ictus oddio che bruttissimo eh lo so però ictus ok e ciao è l'acronimo di Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore in italiano ed era il modo per cui i pagani all'epoca delle persecuzioni potevano riconoscersi disegnavano il pesce i romani non sapevano che il pesce fosse simbolo di cristianesimo per cui guardate che studiate l'interrogo Anna Maria non mi dice niente è infatti quello stavo pensando e ora Anna Maria dirà che le spiegazioni anche bibliche e storiche perfette non ho detto una cosa di questi pesciolini che invece è molto importante sono hanno tutti quanti il buchino così proprio per essere appesi certo ok se invece li volete mettere in un altro modo ok però sono già predisposti per essere appesi tutti quanti ok allora se avete domande fatele se non le avete non le fate se non ce l'hanno se non le avete non fatele e in linea di massima è questo che vi volevamo appunto presentare ai pesciolini non li trovate nello shop per ora perché li abbiamo fatti rifare proprio per presentare questo progetto ah il progetto certo però poi ci saranno sì sì intanto Marzia se mi mandi le immagini e tutto quanto le mettiamo al catalogo se tu sei d'accordo e questo e dite qualcosa siete sbalordite perché ci siete ma non favellate aiuto aiuto e in questi casi è il spanico lo tramortite con con la spiegazione con la spiegazione ecclesiastico allora sì certo sì certo vuol dire che vanno al catalogo ok però per il momento nello shop non le trovate e un pochino disponibili qua già ce li abbiamo e questo non ci avete altre domande Marzia vuoi raccontare qualche cosa a tu che sei per fortuna l'unica che mi risponde aiuto aiuto siete io lo so che siete senza parole perché ha lasciato senza parole anche noi perché non ce lo ricordavamo proprio questo progetto no ho detto io lo trovo bellissimo Antonella Antonella al vostro video ha risposto Google che vuol dire che vuol dire che vuol dire che vuol dire che abbiamo fatto siamo su Google cioè non lo so non lo so ma e ora ce lo spiega che vuol dire ti prego lei faci questo dubbio perché Google che ci che ci risponde cioè ci risponde Google e ci rispondete voi infatti cioè riusciamo a farci rispondere da Google ma non ah qui sotto avete sempre link dello shop io l'ho linkato ovviamente www.obbitericordi.it me l'ha detto ho capito mi ha detto non ho capito non ho capito perché lei c'ha l'impostazione ok sì anche a me ogni tanto l'assistente di Google mi esce fuori così ah Google sei ignorante Google insomma dai su non hai capito sei ignorante già perché quello ha sentito no il greco non lo so la parola greca è chiusa non ne ho idea questo gancio è molto resistente sì magari non fa come la porta è molto resistente no no è resistente Franca Davidani ci provo Franca non te lo assicuro perché purtroppo è una funzione che quasi mai funziona un sacco di cuoricini allora ci proviamo a far entrare Franca avete domande avete niente siete da non mi fate allora lunedì in effetti durante la diretta sì ecco un paio di risposte due cose chiusa la diretta si è scatenato l'inferno l'inferno abbiamo lavorato fino al giorno dopo praticamente perché che va benissimo scatenato l'inferno anche dopo la diretta niente Franca guardate allora per la buona pace di tutti l'unico che riesce a collegarsi ed entrare in diretta video è Adriano dall'Australia c'è sempre riuscito c'è sempre riuscito una volta bucci ma tempo fa e poi non c'è più riuscito nessuno tranne Adriano e c'è stato spiegato perché perché in Australia sta perdendo il segnale adesso per un po' finché in serie perché in Australia hanno la fibra vera con i controcavoli perché è una cosa seria quella e infatti Adriano qui è un po' è un po' free infatti Adriano quando si adesso è tanto che Adriano si collega con noi però lo sentiamo sta bene vi saluta noi lo sentiamo comunque al di là delle dirette ma quando si è voluto collegare un video in diretta c'è sempre riuscito e si vedeva benissimo si sentiva benissimo esatto niente qua non ci si riuscì niente diglielo Antonella con Radio Maria è là eh sì ma infatti ha risposto Google e non ha risposto Radio Maria è infatti la spiegazione mia c'è più di loro non ci hanno mandato una scomunica no io ho detto le cose giuste non mi possono arrivano con 3D arrivano cuori arrivano cuori è da Antonella ho visto l'icona ok siete senza parole senza parole qualcuno lo richiedo l'ultima volta se no vi annoio vuole rivedere qualcosa vuole sapere il prezzo di qualcosa aspettiamo un attimino e se no poi vi salutiamo domani 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 torniamo domani è venerdì le follie di hobby del venerdì quindi venerdì ore 13.30 esatto li abbiamo subite secondo me sì secondo me sì secondo me anche sì stanno riflettendo più tramortitevi stanno riflettendo e riflettete sempre sette ce ne sono sì perché non non aumentano almeno per almeno per il momento per cui riflettete riflettete io se se mai ne avanzerà una è mia perché io ce devo fare Babbo Natale io ce devo fare ecco Arena no vedi in questo caso l'Arenda non ce l'avevo pensato proprio strano la metti sulla menza l'è in mezzo alla neve no perché io volevo fare il balconcino per Babbo Natale cioè tutto ambientale e qua la notte di Natale io ci lascio il latte le cose da mangiare per Babbo Natale vabbè salvatemi se ne avanzano due l'altra la faccio vedere se ne avanzano due potrei decidere di fare qualcosa io e me la porto a casa ma pure e sempre tu però secondo me non avanzano se avanzano ragazze è un delitto è un delitto io ve lo dico basta è un delitto perché vi assicuro che ovviamente facendo questo lavoro i prezzi li conosciamo se questo supporto fosse marcato un'altra casa che noi trattiamo molto 50 euro sicuro 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 fa bene se hai capito mi sa come lo fa vedere noi conosciamo proprio l'artigiano che l'ha fatta sì mi sa tanto che noi l'artigiano che l'ha fatta lo conosciamo le panine proprio che le hanno create quindi niente sono folgorate da questa cosa o sono folgorate oppure sono collegate e poi scappate ci sono io oggi non ho il contatore quindi non so quanti ci sono se ci sono ci sono ci sono e niente ok mi risponde più Marco Marzia basta è finita proprio allora al limite domani pubblichiamo sulla pagina sul gruppo anche gli elementi sciolti vediamo un attimo sì Antonella io ascolto mentre intanto prendo spunti brava brava Antonella Anto anche perché immagino sei al lavoro pure te sei al negozio allora a questo punto vi salutiamo vi ringraziamo come sempre grazie Marzia per essere intervenuta anche oggi noi ci vediamo domani alle 13 e 30 con le follie di hobby preparatevi preparatevi anche noi pure noi perché non sappiamo ancora dobbiamo cominciare a pensarci prepariamoci prepariamoci tutti certo di Santonella di 60 lavoro quindi prepariamoci tutti prepariamoci tutti grazie a voi grazie a te ancora Marzia ci niente ci salutate almeno ciao ciao alla prossima ciao perché mi viene a me mi vengono i dubbi perché a me dispiace interrompere le dirette quando vedo che ancora siete là allora penso magari mi stanno tardando a scrivere e la linea va e viene quindi ci sarà un ciao di Santonella me la ok perfetto ci siamo ok scusate ultima cosa sono le 18 e 10 non scrivete ora chiudiamo la diretta e non scrivete più qua sotto ok perché sennò si disperde tutto ma al 370 10 25 425 che è il nostro numero solido oppure ci chiamate sullo stesso numero come volete esatto ma non scrivete qua non qua sotto perché sennò si disperde e soprattutto ecco quando ci sono cose limitate nel numero avete visto con le offerte che succede ci dispiacerebbe solo questo allora buon proseguimento di serata ci vediamo domani alle 13.30 le foglie di hobby non mancate sì stavo pensando stavo per dire una cavolata stavo per dire no non è vero perché domani arriva il corriere domani arriva il corriere consegna materiale già ordinato non vedo più a far vedere niente a posto alle 13.30 buonasera vi lasciamo vi lasciamo con il meteo sì è il meteo è il meteo è un po' così però a quest'ora su Rai3 c'è il meteo perché è il preserale sì esatto ho acceso quindi non siamo qua e vi salutiamo ciao ciao ciao